Per navigare con fibra di Aruba hai bisogno di un router Wi-Fi. Ci sono due possibilità. Puoi scegliere il router a noleggio abbinato alle offerte oppure utilizzare un dispositivo di tua proprietà. Vediamo nel dettaglio cosa comporta la scelta del router a noleggio. Fritzbox 7530 Si tratta di un dispositivo di piccole dimensioni, posizionabile anche a muro, che diffonde un segnale Wi-Fi potente. Puoi gestirlo comodamente anche da smartphone grazie alla MyFritz App ed è compatibile con telefoni fissi o VoIP. Abiti in una casa molto grande o su più piani? Non preoccuparti, puoi integrare il router a ripetitori Fritz Wi-Fi Mesh disponibili in commercio. Configurazione Se ne occuperai il tecnico incaricato dell'attivazione della linea. Prestazioni Potrai sfruttare appieno le performance della connessione a banda ultra larga. Assistenza In caso di malfunzionamenti non imputabili alla tua responsabilità, sarà riparato o sostituito senza alcuna spesa aggiuntiva. Passiamo alla seconda opzione Cosa c'è da sapere se vuoi utilizzare un router di tua proprietà? Compattibilità Assicurati che il tuo dispositivo sia di ultima generazione e supporti la tecnologia FTTH Configurazione Dovrai provvedere autonomamente Ti invieremo un'email con i parametri al momento dell'attivazione Assistenza Tieni presente che non potremo intervenire sul tuo router, ma ti forniremo supporto per la parte relativa alla linea. Sei pronto per iniziare? Vai su fibra.aruba.it E verifica se il tuo indirizzo è già coperto da fibra di Aruba E verifica se il tuo indirizzo è nuovo. Grazie a tutti.